bella a tutti ragazzi sono Mirko bentornati su Ghibli channel e su Supermarket Simulator allora ragazzi proseguiamo la nostra seriozza dunque io ho già ordinato tutto e ho anche installato una nuova mod che adesso vi farò vedere dunque come altre cose rispetto al precedente gameplay non ne ho fatte semplicemente ho fatto passare un paio di giornate infatti adesso siamo diciamo un po più di metà del livello 45 però per la nuova licenza dobbiamo arrivare addirittura a livello 56 ora come diciamo obiettivo di oggi è quello di naturalmente riuscire a espandere il negozio perché ormai ho veramente esaurito lo spazio praticamente quindi devo riuscire assolutamente a espandere un attimino il nostro supermercato perché sennò diventa veramente veramente un problema ho fatto l'ordine ho riempito insomma bene tutto il supermercato anche sistemato un po il magazzino e siamo rimasti con 7.416 dunque nella giornata precedente che ho fatto off camera ho fatto 66 clienti vediamo un attimino quest'oggi quanti ne faremo allora vi faccio vedere anche la nuova mod che invece riguarda gli scaffali del magazzino perché ho trovato dove cacchio vado nell'arredamento praticamente il narrow rack che sarebbe il mezzo scaffale del magazzino quindi la metà di questo scaffale può essere molto molto comodo perché per l'appunto possiamo diciamo così infilarlo magari negli spazietti che ci rimangono liberi dove magari un scaffale uno scaffale normale non ci starebbe il mezzo scaffale può essere veramente comodo per riuscire a gestire ulteriormente meglio il nostro magazzino ne proviamo a comprare uno perché vabbè volevo vederlo visto che ancora non l'ho visto così lo proviamo anche vediamo se crea problemi o meno ma non credo perché di fondo funziona un po come diciamo il mezzo scaffale del supermercato tipo vedete qua ovviamente un uno scaffale intero non mi non sarebbe mai stato all'interno di questo spazio mentre invece qua possiamo metterlo tranquillamente quindi possiamo completare diciamo tutto questo lato con altri quattro spazi liberi che insomma nel magazzino sicuramente ci fanno comodo anche perché il magazzino più grande di così non possiamo farlo di conseguenza dobbiamo cercare di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione proviamo a mettergli su uno scatolone qualsiasi e vediamo che appunto lo scaffale effettivamente funziona senza problemi la mod si trova sempre sul sito nexusmod.com e l'installazione è sempre la stessa vi andate a scaricare la mod che consiste in un unico file con estensione dll quel file lo prendete lo mettete nella cartella bpinex slash plugin quindi al solito insomma percorso la cartella plugin sotto la cartella bpinex per cui la mettete semplicemente lì questo file e la mod funziona più che tranquillamente come abbiamo potuto vedere ed è effettivamente molto molto comoda per adesso aggiornamenti ancora non ce ne sono stati diciamo nel gioco base io spero che a breve insomma gli sviluppatori possano mettere nuovi contenuti ci sono ancora un sacco di altre mod perché come detto al giorno ne escono almeno 5 o 6 ce n'è una molto carina anche per cambiare il nome della nostra insegna che magari metterò perché comunque molto carina come detto non volevo esagerare comunque troppo con le mod perché sicuramente nel prossimo aggiornamento gli sviluppatori metteranno un sacco di cose nuove quindi non vorrei che poi le mod andassero a creare magari qualche casino sugli scaffali non credo ho aspettato appunto a mettere il discorso del nome perché abbiamo nel computer la parte di personalizzazione che però per il momento è ancora bloccata per l'appunto perché devono inserirla prossimamente per cui sicuramente quando la sbloccano avremo modo di personalizzare diciamo l'insegna piuttosto che le pareti penso il pavimento queste cose qua per cambiare un attimino stile al nostro supermercato allora quello che vorrei fare oggi per per l'appunto e prendere la sezione 8 che ci costa però ben 11.000 dollarozzi quindi insomma è una bella botta speriamo di riuscire a prenderla sinceramente perché non lo so dato che comunque 11.000 non sono assolutamente pochi io per il momento ancora la mod dei clienti aggiuntivi non l'ho rimessa quindi ho tenuto diciamo così il gioco vanilla da questo punto di vista vediamo come va più che altro perché come detto io diciamo così la necessità di andare avanti un po velocemente dovendoci anche realizzare video vorrei insomma riuscire a espandere un attimino di più il negozio è vero che anche senza la moda e come detto i soldi comunque li stiamo facendo perché vedete che adesso abbiamo 9.600 però ovviamente facendo 66 clienti anziché 100 va da sé che insomma i soldi aumentano in maniera decisamente più lenta per quanto con la mod io debba ordinare comunque molta più merce abbiamo anche comunque un guadagno maggiore questo è inevitabile quindi sto valutando di per l'appunto rimetterla come del resto mi avete consigliato anche in tantissimi appunto per velocizzare un attimino l'espansione del locale l'acquisto delle nuove licenze eccetera eccetera perché chiaramente più clienti vuol dire anche un aumento molto più veloce per quanto riguarda il livello perché ogni cliente che ci paga ci dà comunque se non erro 5 punti esperienza per farci aumentare di livello anche qui va da sé che se sono 66 clienti al giorno abbiamo un tot di aumento di livello se sono 100 ne abbiamo tutto un altro chiaro quindi insomma le cose ovviamente procedono in maniera molto più veloce come detto visto che i nostri cassieri comunque riuscivano a starci dietro anche con 100 clienti e poi se c'era bisogno potevo fare anche io un po di cassa sinceramente penso dal prossimo gameplay di riattivare per l'appunto questa mod insomma in modo da fare un attimino più clienti anche perché io mi sto tenendo più indietro possibile con gli ordini quindi sto cercando di ordinare veramente il meno possibile cioè giusto veramente quello che stiamo per finire però comunque anche qua abbiamo un sacco di prodotti e quindi i soldi se ne vanno via veramente alla velocità della luce di conseguenza insomma quella mod effettivamente mi farebbe comodo allora io inizio a mettere giusto qualche cosina che vedete stiamo finendo magari l'olio è vero che abbiamo 43 ma siamo a zero in magazzino va beh la farina posso anche aspettare un attimo la prendiamo il prossimo giorno gli spaghetti magari li prendo vediamo questo no quest'altro no la carta igienica per forza di cose poi in realtà è un ordine che farò il prossimo giorno perché ormai sono già le nove di conseguenza non posso farlo ora però vabbè abbiamo ancora roba quindi sinceramente sì magari ne abbiamo poco in magazzino ma esposta sugli scaffali comunque ne abbiamo ancora parecchie il sushi grande va bene ne abbiamo ancora cinque magari uno la prossima giornata lo prendiamo però a sto punto fare una cosa facciamo così no togliamo tutto perché vedo di prendere la nuova licenza allora una licenza benetto ci costa 11 mila quanta gente c'è ancora che deve pagare beh ce n'è parecchia in realtà ce n'è c'è la licenza scusate l'espansione adesso stavo pensando alle licenze quindi in realtà se prendiamo l'espansione che costa 11 mila ci avanza ancora qualcosina per ordinare giusto quello che ci serve proprio nell'immediato perché non riesco a passare ok c'era un muro invisibile dato da non so bene che cosa e quindi comunque direi che ce la facciamo abbiamo ancora insomma margine di mille passa dollari per ordinare proprio solo le cose che ci mancano secondo me ce la facciamo senza particolari problemi per massimo durante la giornata faccio un altro ordine quindi andiamo a espandere il nostro locale vediamo un attimino come diventa da dove che si è allargato ah da qua ah vedi quindi io qua posso fare a sto punto tutta la sezione di frigo e mi conviene a sto punto allora facciamo così quindi io qua farei la parte diciamo dedicata alle bibite però con le bibite vorrei prendere un frigo grande anche qua magari facciamo un po di cambi questi li posso volendo lasciare anche qui che sono i frigo diciamo dedicati più che altro al formaggio a queste cose qua e magari di là metto questi frigo dedicati appunto allo yogurt al latte alle uova però anche qua voglio prendere dei frigo grande questi li rivendiamo perché sinceramente mi diventano un po un casino da gestire essendo frigo piccolini quindi facciamo fine giornata abbiamo fatto 65 clienti quindi uno in meno rispetto al giorno precedente in linea teorica avendo comunque comprato l'espansione del negozio il prossimo giorno mi dovrebbero entrare comunque più clienti in teoria ma vediamo se effettivamente se effettivamente sarà così allora io inizio a prendere magari anche vediamo un frigo di questi qua che costa anche un sacco peraltro perché ci costa addirittura 3 75 quindi iniziamo a prenderne uno poi dovrò prendere ovviamente le luci perché qua sicuramente di frigo grandi ce ne stanno tranquillamente tre ok e vediamo di prenderne as beh aspetta facciamo una cosa prima allora qua metterei tutte queste bibite quindi facciamo così togliamo un attimo queste metti giù togli sta roba e andiamo a mettere qua a sto punto le bibite le metto già divise su due così almeno i nostri vanno a rifornire correttamente lo scaffale poi andiamo a tirar via questa la mettiamo così e togliamo subito un cartellino così la mettiamo qua tac e tac ok perfetto così tiriamo via sta scatola poi andiamo a prendere questa scatola qua e riempiamola con queste altre bibite questo lo tiriamo via tanto adesso questi li rivendo quindi non mi darà sicuramente la cifra intera che ho pagato questo frigo però comunque qualcosina sempre ce la facciamo per cui magari poi prendiamo un altro frigo così almeno siamo a posto e qua se ti togli magari grazie ok mamma mia i miei miei dipendenti che mi ostacolano perfetto allora questo l'abbiamo fatto quindi possiamo in scatolare e a sto punto vendere tac e ok 100 dollari li abbiamo fatti perfetto adesso andrei a prendere così già che ci sono riordini frigo perché appunto aspettavo a farlo per comprare prima l'espansione quindi prendere i frigo grossi perché come detto solo quelli piccolini per cui direi che cambiamo con questi grandi sono tutta un'altra cosa perfetto quindi qua possiamo mettere tranquillamente l'altro frigo quello grande e qua vorrei fare praticamente tutto il reparto di latte e uova quindi iniziamo a mettere queste uova qua allora facciamo così aspettate tiro via l'etichetta così i miei non mi rompono le balle e facciamo così ok e ok almeno le mettiamo già doppie di quale tiriamo via tac perfetto tirami via questa e facciamo così ok così almeno siamo a posto e lo mettiamo qua il latte o benissimo benissimo perfetto così almeno il latte l'abbiamo sistemato poi un'altra cosa che potrei cambiare è il burro perché anche il burro effettivamente lo vedo meglio con la parte dedicata alle uova e il latte secondo me ha più senso perché comunque il burro solitamente nei supermarket è messo diciamo non insieme agli altri formaggi ma tendenzialmente con il latte quindi vorrei rispettare un attimino questo ordine quindi questo lo mettiamo qua facciamo così e facciamo così ok guarda stai attento che ti seguo via le gambe ok bravo perfetto così il burro l'abbiamo messo qua sotto ottimo bravo va a riempire anche tu bravissimo va che gioco di squadra oh così così è decisamente decisamente meglio ma molto meglio eh sì dovrei spostare questo succo sotto più che altro perché ho fatto le bibite qua facciamo un attimo al volo dai così facciamo un ordine un attimino fatto bene bene lì mi rimane uno spazio vuoto per eventualmente un'altra bibita che vediamo magari la sblocchiamo in seguito non lo so a questo punto qua potrei mettere la parte di formaggio quindi tiriamo via questo questo lo mettiamo qua dammi questo dammi il parmigione perfetto allora tira via questa tira via questa e il parmigiano lo mettiamo qua ottimo così almeno anche qua cerchiamo di riordinare un attimino perfettissimo e qua sotto abbiamo appunto le lasagne al salmone che scemo il salmone lo devo mettere col pesce giusto mi ero scordato di questa cosa quindi il salmone da qua tiramelo via e il salmone no non qua porca miseria ho sbagliato ripiano ok me lo metti qua così abbiamo il doppio scaffale di salmone che secondo me anche qua è decisamente meglio così abbiamo pesce formaggio carne voglio dividere ulteriormente la parte qua delle lasagne perché in realtà come carne io ancora il prosciutto che vorrei mettere insieme io anche questa carne qua quindi il pollo da qua lo tiriamo via perfetto e lo andiamo a mettere di là ok buono dai così almeno abbiamo fatto una cosa un attimino più caruccia quindi qua abbiamo fatto una sorta di reparto macelleria quindi con la carne e con diciamo il pollo quindi sia carni rosse che carni bianche ottimo ottimo così buona volevo fare un altro frigo dedicato invece all'acqua perché secondo me anche qua un frigo dedicato all'acqua ci vuole assolutamente perché comunque l'acqua si vende tanto quindi scatoliamo questo e lo vendiamo così facciamo due soldi in più ok dammi questo tira via tutto e facciamo ovviamente un frigo doppio perché sennò è un casino allora questo tiramelo via fai così in scatola e vendi oh perfetto ottimo anche qua stessa cosa fai così tirami via l'acqua e vendiamo no stai fermo maledetto lurido ma porca miseria porca vabbè adesso gliela rimetto via maledetti operai allora ok poi qua dobbiamo ancora tirar via questo latte che non ci serve più perfettissimo ok questo anche me lo tiri ma porca ho sbagliato me lo tiri via buono quindi quindi allora il latte lo possiamo mettere via tanto il latte per adesso non ci serve e il latte il latte va qua ottimo allora prendiamo un altro frigo grande ragazzi per quanto riguarda l'acqua così almeno anche quella la sistemiamo a dovere ok io il frigo dell'acqua lo metterei sinceramente qua perfetto eventualmente lascio un po di spazio perché a fianco magari potrei mettere il frigo un frigo piccolino potrei tenerlo questo qua e mettere il frigo diciamo dedicato agli yogurt perché immagino che poi magari di yogurt ne sbloccheremo anche altri credo non lo so adesso questo però vediamo se ne sblocchiamo altri sia di acqua sia di insomma di yogurt abbiamo già i frigo a disposizione e anche questa è un'ottima un'ottima cosa allora questa me la metti sopra così abbiamo già la scorta e questa anche me la chiudi e me la metti qua sopra buona buono così allora dai abbiamo riordinato un po il nostro negozio questo qua ci sta perfetto perché insomma uno piccolino sinceramente me lo terrei e direi che abbiamo fatto un bell'ordine anche per quanto riguarda per l'appunto i frigo qua ancora uno spazio libero per eventuale formaggio potrei mettere gli yogurt qua sotto però col formaggio io lascio lo spazio se magari sblocco ancora qualcosa che ne sono squacquerone uno stracchino insomma un tipo di formaggio che va in frigo ho già lo spazio stessa cosa qua per la parte del pesce poi eventualmente vediamo vorrei fare poi un frigo in più come detto per dividere un po meglio questa parte qua perché questi prodotti diciamo in scatolati li vorrei mettere in un unico frigo perché sono proprio giusti giusti cinque quindi mi ci stanno perfetti in un unico frigo lasciare le birre ovviamente separate beh potrei mettere anche l'humus eventualmente di là fai così perché qua effettivamente l'humus non c'entra una mazza di nulla no quindi potrei fare una cosa di questo tipo dove ho il formaggio lo spazio libero che ho gli posso mettere tranquillamente l'humus che secondo me può andare anche bene può andare assolutamente bene boh perfetto dai così almeno abbiamo completato questo frigo qua teniamo lo spazio se avrò bisogno eventualmente di mettere altra carne e qua altro pesce qua abbiamo fatto la parte degli yogurt quindi direi che va benissimo così se sblocchiamo eventualmente altre uova o altro un altro tipo di burro piuttosto che che ne so la margarina magari il latte lo metto qua insieme agli yogurt e qua vado a completare il frigo insomma sto cercando già di lasciarmi comunque lo spazio per le eventuali cose che sblocco e sbloccheremo successivamente va bene ragazzi allora io direi però che per oggi mi posso fermare qui con questo nuovo episodio dedicato a supermarket simulator ci tenevo a farvi vedere appunto la nuova mod degli scaffali mezzi diciamo così anche per il magazzino e sono comodissimi sono veramente utili come vedete anche i nostri magazzinieri riescono comunque a prendere le cose perché qua avevamo messo uno scatolino di candeggina che adesso non c'è più quindi l'hanno preso loro perché io non l'ho toccato di conseguenza vi consiglio anche questa moda perché funziona perfettamente semplicissima da installare ed è a mio parere molto molto utile per riempire quegli spazzetti piccolini in magazzino che non riuscite a riempire ovviamente con gli scaffali grandi eppure vi danno comunque insomma altri quattro slot di spazio per metterci dentro scorte che servono sempre quindi ragazzi io direi che per il momento posso concludere qua io cercherò ovviamente di andare ancora avanti magari come detto proverò a rimettere la mod adesso magari farò una giornata off camera e vedo quanti clienti faccio con l'espansione perché ricordi logica come abbiamo detto dovrebbero comunque aumentare ovviamente non saranno mai quanto quelli che ci dà la moda quindi io comunque a prescindere la moda la vorrei mettere perché ripeto mi fa avanzare molto più velocemente e grazie a questo riesco a portarvi ovviamente più novità in ogni gameplay perché se no stiamo fermi 10 gameplay sullo stesso livello e sulle stesse cose e insomma dopo rischia di diventare un po' noioso per tutti quindi vorrei rimettere la moda così andiamo avanti un po' più velocemente sblocchiamo le altre cose le altre licenze insomma in attesa ovviamente di nuovi aggiornamenti e di nuovi ulteriori mod detto questo ragazzi fatemi sapere quindi cosa ne pensate come sempre lasciate un sacco sacco di like e condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti di youtube al tastino grazie sotto di ogni mio video detto questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay ciao belli